Che sia la volta buona per il waterfront della città di Fano. Sono stati presentati ieri in conferenza stampa i progetti dedicati alla riqualificazione del tratto di costa di Sassonia, Torrette e Ponte Sasso. Sette le proposte arrivate al comune e due i vincitori. Ad aggiudicarsi il premio di 15.000 euro del waterfront urbano è Andrea Govi, architetto 29enne di Milano, che ha rappresentato un parco verde in riva al mare. A Torrette e Ponte Sasso è stato giudicato migliore il progetto presentato da Pro App Italia, dove anche qui è stata riconosciuta la somma di 15.000 euro. Nello studio si valorizza la connessione tra il lungomare e il quartiere delle comunità, con dei focus dedicati alla mobilità dolce e agli spazi aperti. Ora, ai vincitori, andrà la progettazione esecutiva delle due sezioni. 2,5 milioni di euro per il waterfront a Sassonia e 1,5 milioni di risorse per quello di Torrette e Ponte Sasso. Soddisfatti il sindaco Massimo Seri e il vice sindaco e assessore all'urbanistica Cristian Fanesi. Abbiamo già stanziato le risorse sia per la realizzazione sia per la prima parte della progettazione, proprio perché vogliamo dare questo effetto importante. Tornando ad evidenziare che il nostro waterfront è legato alla nostra città per quello che riguarda nord del fiume Metauro, come la parte sud del Metauro, dove c'è la presenza maggiore anche di strutture ricettive con una forte vocazione turistica, che da tanti anni aspettava una rivalutazione, una riqualificazione e con questo percorso, che io auspico che si arrivi entro la fine del mandato, un intervento che veramente trasformerà la nostra città. Questi due progettisti riceveranno dal Comune di Fano un incarico per la progettazione esecutiva dei due progetti, ma certamente continuerà in questo periodo di tempo uno scambio continuo di idee tra i progettisti, tra l'amministrazione comunale e i residenti e anche gli operatori economici e commerciali, perché appunto il waterfront è una grande possibilità per la città di Fano e quindi vogliamo usarla nel miglior modo possibile coinvolgendo tutti e cercando di fare il meglio per la città di Fano per i prossimi 50 anni. Vorremmo creare lì lo stupore di venire a Fano e vorremmo farlo dialogando con tutti ma raggiungendo i nostri obiettivi che sono quelli di rendere Fano città più bella, più accogliente, più vivibile e se possibile vorremmo che se ne parlasse a lungo di Fano quanto è bella e di quanto è bello questo waterfront.